Figli traditori e il libro di Arcangelo Badolati dedicato alle storie di giovani nati in importanti casati di Andrangheta ma che hanno saltato il fosso scegliendo di collaborare con la giustizia. Il giornalista lo ha presentato a Cosenza. Vediamo con Michele Carlino. L'Andrangheta sta subendo una metamorfosi sotto la spinta dei tanti giovani di famiglie mafiose che si sottraggono al loro destino scegliendo di diventare collaboratori di giustizia. Un fenomeno che da qualche tempo permette di fare ulteriore luce all'interno di una organizzazione criminale tradizionalmente poco conosciuta. Proprio la storia di alcuni di questi ex dranghettisti poi pentiti è dentro Figli traditori, i rampolli dei boss in fuga dall'Andrangheta, l'ultimo libro del giornalista Arcangelo Badolati appena uscito in libreria. Questo libro racconta questa evoluzione, racconta poi le singole storie di questi ragazzi o ex ragazzi, di questi picciotti, ex picciotti, di questi boss designati che poi boss hanno deciso di non diventare. Il lavoro di Badolati porta alla luce storie e vicende accadute nell'Amettino, a San Leonardo di Cutro, all'Imbadio, a Cosenza e in tutte la leva del cambiamento che porta a staccarsi dalla cosca d'origine è rappresentato dal desiderio di un futuro pulito per i propri figli e non di rado dalla crescita culturale personale. Qualcosa di sostanzialmente positivo per Vincenzo Capomolla, procuratore della Repubblica aggiunto di Catanzaro. Tutto questo ovviamente consente di ben sperare anche sul futuro e su una presa di distanza più generalizzata rispetto a questi fenomeni criminali, più che una presa di distanza un contrasto ostinato rispetto a questi fenomeni criminali. Il libro di Arcangelo Badolati che contiene una prefazione di Antonio Nicaso, analista del crimine a livello globale, è un contributo di Ercole Giap Parini, sociologo all'Università della Calabria, è stato pubblicato da Luigi Pellegrini, editore.